Salve, benvenuto Ah, non è da sola? Ok Mi dica, sono a disposizione ad aiutarla per qualsiasi cosa? Ok Di cosa bisogna? Ok, è una consulenza per un bracciale? Sì E mi racconti un po' per chi è? Se la persona possiede già un bracciale, quindi se vuole solo i charm Oppure se non vuole fare uno tutto nuovo Ok, un'amica Ah, quindi volete fare un regalo insieme? Di gruppo, insomma, il gruppo di amici? Perfetto Ha una bella idea di racchiudere un po' tutta la personalità dell'interessata in un bracciale E' una bellissima idea Bene, quindi ha già un bracciale? Sì, ha già un bracciale con le due clip Ok, magari insieme cerchiamo di capire quale In modo da poterlo ricostruire e vedere se l'all'insieme vi piace? Ok Qui ho il catalogo così possiamo vedere se ha quello che vogliete acquistare di nuovo Quello che è quello che ho già di bracciali con bonibili Vediamo un po' Qui ci sono diverse pagine Ah, la clip ok, una clip normale Questa è una clip classica Quindi una di queste Una clip classica Può essere questa qua Perfetto E' di questo colore? Sì Allora Questa qua Perfetto Adesso le clip Vediamo un po' Com'è? Ha una foto Perfetto, mi faccio vedere Sì Allora, se non erro Le clip Le clip Sono questa Sì Questa qua E quella Aravviggiante Sempre aggiuntate Ok, queste le mettiamo dopo quando dobbiamo inserire il Charo Perfetto Perfetto Allora Ditemi un po' qual era la vostra idea Ok Sì Ok Va bene Facciamo così Dato che il bracciale Si può potenzialmente Dividere in tre parti Ci sono le due clip Che quando mi avete detto Ma già Possiamo decidere di fare una parte Dove mettiamo tutti Quei Charo riguardanti Come vi dicevate La sua persona Poi Gli hobby E poi le passioni Sì Perfetto Mi piace Ottimo Allora Mi dica un po' Cominciamo dalla persona che magari è più semplice Nome Ok Ok Mese Di nascita Propriamente Maggio E Poi Vediamo un po' Sì Sì Ok Una lettera Allora Infatti Io anche avevo quella stessa idea Potete scegliere Una letterina Per indicare il nome E La pietra Del mese Sì Di letterina Ci sono queste Che sono Sono Charo Bendenti Comunque ci sono quali Bendenti Ve le faccio vedere Allora In lettera L Come ho detto Ok In mese Maggio Allora Come lettera bendente questa è molto carina Argentata Argentata C'è anche di altri colori Però Essendo il bracciale Argentato Magari Non Non risulta Può risultare un po' Un pugno nell'occhio Vedete tanti colori metallici Mesti insieme Sì Quindi questa è la letterina Bendente Mentre quella che vi ho fatto vedere prima Era Charm Mentre il Charm Del mese E' questo Nel caso di maggio E' color Smeraldo Verde Smeraldo Questa qua Quindi Indicativamente Questi messi insieme Più o meno Possono perfettamente descrivere Quella che è La persona Allora Com'è? Ah Volevate fare qualcosa Anche un po' più di filosofico Diciamo Ok Ad aggiungere sempre alla stessa sensione E' una persona molto autocritica Ok Un po' ansiosa Un po' Sì Quindi il messaggio che volete trasmettere E' Due i tuoi amici E' Prenditi cura di te Non importa Anche se non sei perfetta Ok Allora forse ho quello che fa per voi Questo Tra l'altro C'è anche l'anello Però Del charm Lo trovo molto più carino E' una tiara da principessa Può rappresentare Un po' Sentirsi principessa Un po' di autostima Che magari manca Può piacere? Ok Ok Io direi Tanto che abbiamo due pendenti E un Ciao Ma Io li alternerei Quindi mettiamo magari La L Prima Ok Il giorno del compleanno E la corocina Aspetti che la devo mettere dritta Così abbiamo un'idea complessiva Così abbiamo un'idea complessiva Così Ok E in questa sezione Va bene? Vuole vedere qualcosa d'altro? Andiamo E in questa sezione Allora Ok Ok Mettiamo la clip Ne ho metto una Questa qua Posso anche mettere Una collanina E sono davvero molto carini Su una semplicissima catena In questo caso Argentata Ok Cosa dobbiamo mettere Nella parte centrale? Mi racconti un po' Allora Viaggiare? Sì Anch'io adoro viaggiare Quindi È una passione Che avete in comune Bellissimo Se si ha la possibilità Secondo me Bisognerebbe assolutamente Viaggiare Arranchisce tantissimo Viaggiare E Se potessi Comunque Viaggiare Ok Ha Una meta A cui è particolarmente Affezionata Ad esempio C'è una mia amica Che Adora che è in terra E Ha messo sul bracciale Venti sei Aveva scelto Poi ogni anno Cambia leggermente Però aveva scelto La bandierina Oppure Aveva scelto Ancora Le Big Bang Le Big Bang Che sono tutti i piumi In questa sezione qua E Ad esempio In più generale C'è la Palma La Palma Lugigante Oppure Le Delle città In particolare Come dicevo prima C'è il Colossino Di Roma La Tour Eiffel Di Parigi Eccetera Eccetera Però Una cosa un po' più In generale Da quello che ho capito Allora Forse E' meglio Una cosa del genere Questo qui è sempre un pendente Ed è un mini passaporto E' carinissimo Super Lugigante E secondo me Ci starebbe proprio bene Sì è vero? Mi direi che è azzeccatissimo Poi Questo Sì ok E Poi Altri hobby Che volevate Rappresentare Ah Un po' nerd Ok Appassionato di cinema Film Se avete un po' anime E anche cosplayer Ok Di teatro Sì direi Ho capito il genere Sì 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 Quindi Mi piace la recitazione Il cosplay Ok E Allora Forse Ho anche qua Quello che può andare Perché Abbiamo aggiuntoli con libri Però Una macchina fotografica Però forse Quello che le farò vedere Può rappresentarlo Ma più Allora Stiamo sempre sull'argento Sì Abbiamo Questo qua Che è un pezzo che tra l'altro c'è in collezione da tantissimo tempo E che si vede molto poco in giro Che ha la maschera teatrale Ha Su un lato La faccina Sorridente Dall'altro La faccina Triste Molto triste E poi sopra c'è scritto To be or not to be È l'amleto E In inglese È davvero carina Anche questo ha un bellissimo significato Secondo me Essere un essere molto filosofico Quindi Maschera Quindi recitazione Teatro Ma anche il cosplay Può essere rappresentato da Una maschera Proprio come vero Un proprio trammestimento Anche se la maschera rappresenta molte 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 più cose Anche il stesso Essere se stessi nei panni di qualcun altro Questa è anche molto la recitazione di ogni personaggio Quando A me piacciono molto gli spettacoli teatrali Quando si recita ogni personaggio Per uno stesso personaggio Fatto da autori diversi Può essere molto diverso Perché un po' di noi Un po' di se stessi Si mette sempre dentro Per la costruzione di un determinato personaggio Di un'opera Va bene? Quindi Ok Va bene così Vediamo Vediamo Si Ok Allora mettiamo dentro La maschera In questo caso Indifferente Perché è più pendente E una Normale Quindi Vediamo Lo tritto Si Tra l'altro Dietro il passaporto A parte c'è L'aeroplano L'aerio Con scritto Password Ma dietro c'è anche Il logo Di Pandora E vediamo anche La maschera Della clip Finale Qualc'è lì? Perché è passione? O comunque cos'è che vorrebbe rappresentare? ah una gattara capisco una gattara, si abbiamo tantissime cose per quanto riguarda gli animali o con quella famiglia e direi che vi faccio controllare per quanto riguarda gatti cani ah tra l'altro per il viaggio avevo anche la valigia che poteva essere abbastanza adeguata però alternare un bel dente e un gel forse è meglio allora abbiamo la zampottina ma forse è troppo generica quindi vediamo questo tanti in particolare e quindi un bel gattino eccetto eccolo qua da 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 bello vero? si è fatto molto bene questo perfetto siamo già ottimo e poi come? ah passione per Harry Potter allora non abbiamo una collezione specificatamente di Harry Potter ci sono quelle Disney però forse c'è qualcosa che può rappresentare bene la saga tanto che ne so ovvero questa qui che è la piuma di Fenice e eh sì eh sì infatti le pacchette hanno spesso come cuore una piuma di Fenice o comunque quelle impotenti come quella di Harry Potter che è lo stesso esatto e niente io direi che ci siamo ok ok questo è bruciare? bene eh sì certo il D.A. cioè potrebbe starci anche più avanti aggiungere qualcosa riguardo degli anime comunque questa passione che mi avete spiegato per anime manga però io direi che è molto completo questo anzi questo non cade perchè è avvitato questo va bene così allora perfetto se lo metto se lo metto se lo metto tutti i German e arrivo la scatolina che ne do una fente e da regalo questa qui che è una catenina per utilizzare i ciondoli anche come con lana sia una larghezza classica adoro chiusura così può accorciarlo allungarla in base ai gusti prima che i aspettare ci facciamo un pacchettino questo è molto carino mettiamo dentro ok e se riesco qua dentro la garanzia possiamo chiudere ecco qua siete una bellissima compagnia un bellissimo gruppo di amici grazie grazie mille arrivederci grazie mille grazie mille grazie mille